Un fine settimana con una novità, la prima festa del tartufo scorzone a San Leobastia. San Leobastia che ci aveva abituato al fungo porcino. Antonio Bicchi della Proloco, quest'anno c'è questa novità quindi dello scorzone. È una novità ma che in parte l'anno scorso avevamo iniziato già durante la Sagra del Fungolo, la domenica a contaminare con questo prodotto la nostra festa del fungo. Poi quest'anno insieme all'associazione Tartufai è nata l'idea di portare a San Leobastia la festa del cane da tartufo che si svolge la domenica mattina ed è una festa credo a carattere regionale quindi sono stati invitati tutti gli amanti di questa manifestazione. La manifestazione si svolge in due serate, sono delle cene tutte a base di tartufo nero, lo scorzone, il prodotto locale perché in questo periodo lo scorzone è un prodotto maturo, è un prodotto buono da degustare e quindi quest'idea di valorizzare un prodotto se vogliamo povero tra i tartufi e possiamo chiamarlo quello povero ma se usato al momento opportuno nella giusta maturazione invece è un prodotto che dà dei bei sapori e delle belle cose. Per parlare di tartufi naturalmente il professor Lorenzo Tanzi che spiega un po' anche le caratteristiche del tartufo. Sì, noi insieme alla Proloco abbiamo pensato di organizzare un percorso con il pubblico presente dal bosco alla tavola. Il tartufo scorzone, come ha detto l'amico Antonio, è un tartufo presente nel nostro territorio in maniera cospicua. È un tartufo che ha delle ottime caratteristiche organolettiche e un buon rapporto qualità-prezzo. Noi intendiamo con questo evento far conoscere al pubblico dove fruttifica il tartufo, le modalità di fruttificazione, le caratteristiche del tartufo in modo specifico dello scorzone, come poterlo conservare nel breve periodo e nel lungo periodo, come utilizzarlo in cucina senza l'ausilio degli aroma artificiali. Grazie.